Vi ho parlato nel passato degli orologi al quarzo spiegandovi la ragione fondamentale per la quale sono così precisi. Questo orologio praticamente sono tre anni che io non cambio l'orario e non sgarra proprio di nulla. Ora per ritornare su questo argomento e precisarlo esattamente perché nel passato io ho ridotto tutto un po' troppo all'osso. Vediamo che cosa c'è da dire. Io vi avevo descritto in un modo molto sommario questo fenomeno dicendovi che il quarzo è in grado di amplificare qualcosa che fa parte della sua struttura atomica, che riguarda soprattutto le parti elettriche mobili degli elettroni e che dunque segnalano esattamente che cosa accade negli elettroni. Qualcosa certamente accade in una rotazione della particella attorno al nucleo? Accade un picco che certamente denota che nel corso di quel fenomeno assolutamente costante esiste una variazione sulla cui base poi è possibile cadenzare un certo numero di cicli esistenti e il ciclo esistente, secondo quello che vi dicevo io, riguardava i 700 milioni massimi di giri di un elettrone attorno al nucleo prima che lo spin dell'elettrone che ha un asse della rotazione inverta l'asse costringendo in sostanza il corpo dell'elettrone a ribaltarsi al mutamento della polarità. Questo è il picco che consente di calcolare un certo numero di fenomeni all'interno del contesto atomico. Ecco, per la precisione affrontiamo questo argomento leggendo che cosa scrive l'enciclopedia libera Wikipedia in relazione agli orologi al quarzo. Altri strumenti in cui i materiali piezoelettrici vengono usati sono gli orologi. Ancora una volta il materiale più usato è il quarzo. Sono molto diffusi gli orologi al quarzo piezoelettrico, strumenti in cui la compressione periodica del materiale determina una variazione altrettanto periodica della tensione. Il periodo o la frequenza del segnale in uscita, opportunamente trattato, viene usato come unità base per contare il tempo. Il segnale elettrico, a dire il vero, viene inviato ad una successione di circuiti detti divisori di frequenza, così da poter scegliere un segnale di tensione alla voluta frequenza. In effetti, il segnale all'uscita del sistema lamina di quarzo ha una frequenza elevata. Normalmente per gli orologi è pari a 32.768 cicli al secondo. Per tale motivo vengono usati i circuiti divisori di frequenza che, se posti in serie, sono in grado di ridurre la frequenza. Il segnale elettrico, così ridotto, viene infine inviato ad un contatore elettronico attraverso il quale è possibile, se il comando è esterno, misurare l'intervallo di tempo intercorso tra due eventi, oppure, se si basa sul conteggio del numero dei picchi di tensione, è in grado di determinare il numero degli eventi in un certo periodo di tempo fissato. Ecco, la cosa qui da mettere in rilievo è la frequenza elevata del segnale all'uscita del sistema lamina di quarzo in quel 32.768 cicli al secondo. La prima cosa che dobbiamo fare è quella di confrontare questi 32.768 cicli con gli 864 cicli lineari del piano in 10x10 secondi esistenti in un giorno di rotazione terrestre, il quale ha 1440 cicli interi del minuto secondo, chiamati minuti primi. La radice quadrata dei 1440 minuti primi li pone a riferimento reale, ossia solo in avanzamento nel piano totale cui sono riferiti tutti i secondi della Terra che sono 86.400 ma sono stati ridotti al valore unitario solo del flusso. Per cui, quando moltiplichiamo 864 che è in centesimi di secondo un giorno terrestre, per solo l'avanzamento espresso dal ciclo intero dei minuti secondi, dato dai 1440 minuti primi, noi combiniamo il valore in 32.786,494780 e altri numeri. Ci fermiamo solo alle 6 dimensioni decimali della realtà nel suo complesso 10 elevato a 6 che è calcolato la differenza tra 32.786,494780 e i 32.768 che sono i cicli che rivela il quarzo, rivela che c'è un esubero di 18,494780. Questo valore, quando lo mettiamo in riferimento alle 10.000 quantità della realtà basata basate sulla realtà 540 di una candela, mostra esattamente in 10.000 diviso 540 quel valore di 18,494780, dal che si evince che 10 elevato a 4 diviso 540 è il tempo base aggiuntivo costituito da tutta la realtà 10 elevato a 4 di 10.000 candele, che sono l'intensità unitaria della luce. Come si vede, il tempo che rappresenta la risonanza offerta dal quarzo è coerente proprio con l'intensità unitaria della luce, ma proprio nelle dimensioni intere che in un giorno rappresentano tutto il movimento della Terra. Se lo calcoliamo in cicli di minuti primi essi sono 86.400 cicli di minuti primi, ma quando noi riduciamo questi minuti primi al valore unitario dividendo 86.400 per il 100, che sono 100 secondi messi lì, nel piano trasversale e che dunque non sono flusso, sono soltanto la portata del flusso, noi consideriamo in 864 solo il flusso, avendo escluso la portata. Per evidenziare la portata, noi consideriamo proprio il ciclo intero di tutti i secondi costituiti dai minuti primi, ma solo nell'avanzamento, ossia nella radice quadrata di 1440. Combinare solo il flusso in linea, espresso nei centesimi dei secondi con la radice quadrata del loro ciclo intero, costituito dai minuti primi, porta a questa frequenza, perché la frequenza mette in relazione due diverse rappresentazioni del tempo. È la stessa cosa che indica quanto di questo c'è in quest'altro e a questo punto si osserva che quello è il valore che ne viene dalla frequenza, un valore che contiene in più la quantità di 10.000 candele. Laddove 10.000 candele sono in 10.000 tutta la realtà, espressa da 10 elevato alle quattro dimensioni dello spazio-tempo. Riferite alle 540, che sono cicli a secondo nella dimensione di 10 elevato a 12 hertz, ma qui si pongono come un valore unitario, proprio di riferimento, per cui si vede che questa frequenza ricalca in pieno la frequenza rappresentata dalla massa terrestre nel tempo della sua intera rotazione di un giorno. Quindi è qualcosa che è collegata con proprio il periodo della rotazione intera della Terra. Questa Terra, essa pure è in linea con le stesse sue regole. Ogni 650 milioni di anni essa è costretta a ribaltare il suo asse proprio per il raggiunto numero di giri che può fare attorno al suo centro di rotazione che è il Sole. Ecco, ciò che condiziona la Terra condiziona anche gli elettroni che sono poi il valore base della carica elettrica, perché la carica elettrica, che è 16, è in relazione perfetta con il 540, che è l'intensità della luce, perché la carica 16 della realtà data da 10 elevato a 4, relativa al ciclo intero, nelle quattro dimensioni dello spazio e del tempo, messa in relazione al 5 elevato a 4, ossia solo all'avanzamento 5 nel ciclo intero 10, rivela 10.000 diviso 625 uguale 16, ossia ogni carica della realtà che avanza soltanto si deve caricare di 16 unità per rappresentare tutte 10.000. Quando queste 16 si moltiplicano per 540, che sono il valore dell'intensità unitaria della luce che vale come un secondo, determina proprio 16 per 540 uguale 8640 secondi, che sono la presenza un decimo interna ad un giorno. Avendo dimostrato come quella frequenza che si vede legata al quarzo, praticamente è una frequenza che esiste in un giorno intero per quanto riguarda la Terra, queste sono le ragioni che obbligano l'inversione dell'asse terrestre o dell'elettrone. 32.768, che sono i cicli reali in un giorno evidenziati proprio dal ciclo del quarzo moltiplicati per 20.000 anni, che sono il ciclo di 10.000 anni che avanzano per 10.000 anni, determina la quantità totale dell'avanzamento della realtà 10 elevato a 4 in anni quando percorre 10.000 anni. Il piano della realtà di 20.000 anni, in sostanza, si deve moltiplicare per il ciclo reale che esiste in un giorno e abbiamo la quantità totale dei cicli che sono necessari prima che si inverta la polarità nord-sud di quanto regola o la particella elettrica o la massa della Terra, che hanno entrambi un polo nord e un polo sud. Dopo questo esatto numero di anni, la Terra è costretta a ribaltare il suo asse per consentire tutta la rotazione che esiste in tutte e tre le tre dimensioni della realtà, perché se non esistesse anche il ribaltamento dell'asse avremmo sempre e solo che ruota soltanto il piano dell'asse terrestre e non ruota mai la terza dimensione, quella che è fissa, ebbene, proprio quando si è raggiunto il numero esatto delle rotazioni che è possibile compiere, allora di colpo si rovescia l'asse e in questo modo si dà luogo anche alla terza rotazione che esiste nel volume, altrimenti il volume che presenta tre dimensioni che sono tutte e tre uguali tra di loro avrebbe sempre e solo nella Terra e negli elettroni che hanno uno spin, sempre e solo un polo nord e un polo sud che fissano eternamente quella posizione e non avremmo mai la rotazione, ossia l'inversione dell'asse della rotazione, ma solo e sempre del piano della rotazione, invece quando la rotazione ha raggiunto il numero intero che può raggiungere come piano di rotazione, allora è costretto il corpo a invertirsi in modo da dar luogo da quel momento in poi a un altro periodo che serva proprio per consentire anche l'alternanza nell'asse della rotazione. Come avete modo di osservare, in questo calcolo io ho considerato esattamente il periodo di rotazione del quarzo che segue perfettamente il periodo di rotazione che esiste nel sistema dell'elettricità portata dagli elettroni, non il calcolo quello che si basa su quel supero che esiste come unità di misurazione. In tutte le nostre misurazioni unitarie, tutte, esiste sempre il modello unitario che incide nella misurazione e bisogna togliere di mezzo l'esistenza di questo modello. 10 elevato a 4 diviso per il valore dell'intensità della luce è il modello unitario di riferimento per quanto riguarda l'intensità della luce. E questo modello noi lo mettiamo sempre in presenza quando facciamo i calcoli reali, dobbiamo toglierlo di mezzo perché il modello unitario non c'entra e che non c'entri ce lo indica proprio quel valore di 32.768 cicli del quarzo perché il quarzo segue puntualmente le singole rotazioni che accadono all'interno dell'elettrone quando l'elettrone ha percorso tutti i 655.360.000 dei suoi anni l'elettrone quando ha percorso tutta questa rotazione attorno al suo nucleo ha compiuto un periodo intero e si ribalta. Noi che calcoliamo il tempo sulla base del ribaltamento dell'elettrone poi calcoliamo un ciclo intero di 32.768 perché quelli sono tutti gli scatti in frequenza che esistono in un giorno laddove la frequenza appunto mette in risalto il concorso tra 864 che è tutto il flusso delle centinaia di secondi con la radice quadrata di tutti i cicli interi dei secondi dati dai minuti primi ma questo valore contiene anche la quantità intera su cui è basato il calcolo data da 10 elevato a 4 candele e di conseguenza noi questa unità la dobbiamo togliere noi è proprio dalla rotazione del quarzo nel suo ciclo che riguarda rotazioni come avevo detto proprio che accadono puntualmente una ogni 655.360.000 anni in relazione all'elettrone ogni numero di giri come questo l'elettrone inverte la rotazione del suo spin occorrono un numero di 32.768 inversioni per dar luogo alla frequenza che esiste in un giorno intero della Terra e vi ho spiegato prima per quale motivo ma ora voglio aggiungervi anche una di quelle cose che vi portano poi a squalificarmi come scienziato quando affermo che questo ciclo di 32.768 riferito al ciclo intero dei giorni che io prevedo nella mia vita che terminerà il 26 di luglio del prossimo 2016 rivela di essere superiore per 4.095 unità che sono 41.000 meno 5 e rappresentano l'esistenza di una presenza in migliaia quindi in quantità di 10 al cubo di Dio 10 e 3 10 più 30 ossia l'unità e trinità nella decina sommate all'unità assoluta quando evidenziamo questo 41 in lettere sono quelle che riguardano la parola amor che in amo è la tridimensione di Amodeo e in R alla dimensione 1 del nome romano mentre meno 5 è proprio quella mano in meno in Genesi 38 perché in Genesi 38 nasce un bambino che mostra solo una mano e ne manca un'altra per 5 dita ecco tutto questo è indicato come presente nel valore 32.768 tanto che si muove solo per quei giorni lì di 28.673 si muove di tanto proprio perché l'ingombro di questa presenza è di 41.000 1.000 meno 5 quindi essendo una presenza simile all'amor nel Dio 10 a cubo ma essendo un 5 in meno proprio in virtù di quel gennaio 38 della mia nascita che è evidenziata in Genesi 38 ecco è tutto questo insieme che ha questo ingombro di 4095 che esiste in tutto quel ciclo e si muove solo per i giorni che rimangono inoltre è possibile fare anche questo calcolo prendere il quantitativo totale dato da 32.768 e dividerlo per i giorni della mia vita risulta che il valore è 1 virgola 14 28 17 e rotti ma io mi fermo a valutare solo le prime 6 cifre della realtà e questo vi dimostra che esiste l'unità sommata a 0,14 che è il piano creativo al lato di 7 centesimi in più questo 7 è 1 e trino alla dimensione 10 elevato a meno 4 che è quella della realtà unitaria alla realtà 10 elevato a 6 che è unitaria in 10 elevato a meno 6 esiste il 16 che è la realtà r più 1 che rappresenta r più a proprio le iniziali di romano amodeo questo ripeto alla dimensione meno 6 del mio duo nei due 6 posti nel 66 di romano insomma la mia stessa vita prevista intera in 28 673 giorni ha esattamente questo ciclo tutto quello che c'è di differenza riguarda la presenza di un soggetto che ha un ingombro e che si muove solo per lo spazio che resta dato quel suo ingombro io ve l'ho anticipato questi discorsi qui a voi non piacciono ma a me piace mostrarveli proprio per mostrarvi la quantità enorme di indizi che esistono e che portano la mia vita quando è calcolata in 28 673 giorni a essere proprio coerente con tutti gli importanti e fondamentali cicli che esistono nella misurazione reale del tempo che esistono